Stai giocando bene, hai sbagliato un po' di... lei sta giocando bene, lei è brava! Ok, ritai, 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 ritai! Qualità sempre, tante! Grazie! Aspettala bene, poi vai! Hai capito? E poi vai, che è il perfetto! Andiamo! Passa, bene, su! Sì, stia! Grazie! Come ti senti? Il gioco è che vuoi fare? Bravi! Bisogna cambiarlo un po' Allora, lei è che fa la parte, eh! E gli passa bene sotto! E bravi! E bravi! E si fa scegliere sotto! E si fa rinforzo! Bravi! Aspetta, Marta, Marta, aspetta, con un calcio! Ehi! 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 O sei pronta a giocare o fai tanti! Vende i basi o a destra! Mört'altro! Muove in e le gambe! Appena i piedi! Bravo! Bravo! Brava! Bravo! Bravo! molto bravo bravi il bar se voglio tirare tu prepari voglio solo vedere questo sei già, stai in questo preparati 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 faccio piano piano davvero preparati ma lo devo preparare ok se la fai su internet mandi il link se c'è il link prego ma la devo fare più ma la faccio di più una volta su tre però sapendo che poi il mio città è il mio città e proprio il mio città e proprio il mio città sei bravissima sei brava sei brava 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 aspettala bene bravissima Marta arriviamo su ogni pallina cerchiamo di arrivare su ogni pallina fermati mi piego penso e faccio brava aspettala bene e lei continua lì o se no devi preparare vai adesso Elena su va benissimo stai giocando bene preciò e su e su e su e su e su stai stai giocando bene dai stai giocando bene brava stai giocando bene brava bravissima bravissima come ti senti tranquilla brava 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 ma da ma ma la ma il suo, forza Elena, muoviti gambe Elena con le gambe rifallo, rifallo pronta, pronta, pronta pronta, pronta brava Elena andra, reattiva sulle risponser reattiva, musai va, reattiva eh, dobbiamo giocare in questa palestra in questa palestra brava le gambe, le gambe, pronta pronta con le gambe Elena qua, qua pronta Ale sì, sì, sì però poi non vi voglio vedere se non si distrae la tribunanza la tribunanza si pensa non si distrae senza paura senza paura ma sempre pari pari si pari ok sempre pari avanti scaccia avanti ja, gambe avanti ok senza paura viena peri applaus si vissa 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 Grazie. 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 Grazie.